Una buona partita, parlo ovviamente per noi, che è quello su cui siamo fortemente concentrati, perché l'obiettivo è quello prestagionale, è quello di arrivare pronti per l'inizio del campionato. Siamo alla terza partita ufficiale o amichevole e devo dire i primi due quarti, a parte i primi minuti, poi credo abbiamo prodotto un discreto attacco, abbiamo mosso la palla come sarebbe nelle nostre intenzioni, abbiamo anche difeso con attenzione e abbiamo giocato al ritmo a noi più congeniale. Forse potevamo addirittura chiudere un po' meglio sul finire del secondo quarto. Terzo quarto sicuramente ha avuto più qualità a Verona, più qualità, più fisicità. Noi abbiamo fatto qualche errore di troppo e siamo andati sotto nel punteggio per meriti di Verona e per errori nostri che ci possono stare in questo periodo della stagione, quindi niente da dire se non cercare di correggere alcune situazioni. Il quarto quarto in realtà, poi quello che ho detto ragazzi, l'abbiamo giocato per finire la partita e questo ovviamente non è l'obiettivo perché l'obiettivo nostro è ogni minuto di gioco, ogni momento della partita di allenamento è un momento per migliorare da un punto di vista individuale e di squadra. Il quarto quarto è stato un po' un garbage time assoluto e ovviamente per Verona avanti nel punteggio poteva essere anche accettabile, per noi no, non sto parlando di scarto ma di proprio voler continuare a cercare di fare le nostre cose pur nelle difficoltà o nella stanchezza che ovviamente c'è per entrambe le squadre.